Grazia dell'Edda, il dono di Natale. I cinque fratelli Lobina, tutti pastori, tornavano dai loro vili per passare la notte di Natale in famiglia. Era una festa eccezionale per loro quell'anno perché si fidanzava la loro unica sorella con un giovane molto ricco. Come si usa dunque in Sardegna, il fidanzato doveva mandare un regalo alla sua promessa sposa e poi andare anche lui a passare la festa con la famiglia di lei. I cinque fratelli volevano far corona alla sorella anche per dimostrare al futuro cognato che se non erano ricchi come lui, in cambio erano forti, sani, uniti fra di loro come un gruppo di guerrieri. Avevano mandato avanti il fratello più piccolo, Felle, un bel ragazzo di undici anni, dai grandi occhi dolci, vestito di pelli lanose come un piccolo San Giovanni Battista. Portava sulle spalle una bisaccia e dentro la bisaccia un maialetto appena ucciso che doveva servire per la cena. Il piccolo paese era coperto di neve e casette nere addossate al monte parevano disegnate su di un cartone bianco e la chiesa, sopra un terrapieno sostenuto da macigni, circondata da alberi carichi di neve e di ghiacciuoli, appariva come uno di quegli edifizi fantastici che disegnano le nuvole. Tutto era silenzio, gli abitanti sembravano sepolti sotto la neve. Nella strada che conduceva a casa sua, Felle trovò solo sulla neve le impronte di un piede di donna e si divertì a camminarci sopra. Le impronte cessavano appunto davanti al rozzo cancello di legno del cortile che la sua famiglia possedeva in comune con un'altra famiglia, pure di pastori, ancora più poveri di loro. Le due casupole, una per parte del cortile, si rassomigliavano come due sorelle. Dai comignoli usciva il fumo, dalle porticine trasparivano fili di luce. Felle fischiò per annunziare il suo arrivo e subito alla porta del vicino si affacciò una ragazzina col viso rosso dal freddo e gli occhi scintillanti di gioia. «Bentornato, Felle!» «Oh, Lia!» e gli gridò per ricambiarle il saluto e si avvicinò alla porticina dalla quale adesso con la luce usciva anche il fumo di un grande fuoco acceso nel focolare in mezzo alla cucina. Intorno al focolare stavano sedute le sorelline di Lia. Per tenerle buone, la maggiore di esse, cioè quella che veniva dopo l'amica di Felle, distribuiva loro qualche chicco di uva passa e cantava una canzoncina d'occasione, cioè una ninna nanna per Gesù bambino. «Che c'hai qui?» domandò Lia toccando la bisaccia di Felle. «Ah, il porchetto! Anche la serva del fidanzato di tua sorella ha già portato il regalo. Farete una grande festa, voi?» aggiunse con una certa invidia. Ma poi si riprese e annunziò con gioia maliziosa. «E anche noi!» In vano Felle le domandò che festa era. Lia gli chiuse la porta in faccia ed egli attraversò il cortile per entrare in casa sua. In casa sua si sentiva davvero odore di festa, odore di torta di miele cotta al forno e di dolci confezionati con bucce di arance e manderle tostate. Tanto che Felle cominciò a digrignare i denti, sembrandogli di sgretolare già tutte quelle cose buone ma ancora nascoste. La sorella alta e sottile era già vestita festa, col corsetto di broccato verde e la gonna nera e rossa. Intorno al viso pallido aveva un fazzoletto di seta a fiori ed anche le sue scarpette erano ricamate col fiocco. Pareva insomma una giovane fata mentre la mamma, tutta vestita di nero per la sua recente vedovanza, pallida anche lei ma scura in viso e con un'aria di superbia, avrebbe potuto ricordare la figura di una strega senza la grande dolcezza degli occhi che rassomigliavano a quelle di Felle. Egli intanto traeva dalla sua bisaccia il porchetto, tutto rosso perché gli avevano tinto la cotenna col suo stesso sangue e dopo averlo consegnato alla madre, volle vedere quello mandato in dono dal fidanzato. Sì, era più grosso quello del fidanzato, quasi un maiale, ma questo portato da lui, più tenero e senza grasso, doveva essere più saporito. Ma che festa possono fare i nostri vicini se si non hanno che un po' di uva passa, mentre noi abbiamo questi due animaloni in casa. E la torta e i dolci, pensò Felle con disprezzo, ancora indispretito perché Lia, dopo averlo quasi chiamato, gli aveva chiuso la porta in faccia. Poi arrivarono gli altri fratelli, portando nella cucina, prima tutta in ordine e pulita, le impronte dei loro scarponi pieni di neve e il loro odore di selvatico. Erano tutti forti, belli, con gli occhi neri, la barba nera, il corpetto stretto come una corazza e sopra la mastrucca. Quando entrò il fidanzato si alzarono tutti in piedi, accanto alla sorella, come per far davvero una specie di corpo di guardia intorno all'esile e delicata figura di lei. E non tanto per riguardo al giovane, che era quasi ancora un ragazzo buono e timido, quanto per l'uomo che lo accompagnava. Quest'uomo era il nonno del fidanzato, vecchio di oltre 80 anni, ma ancora dritto e robusto, vestito di panno e di velluto, come un gentiluomo medievale, con le uose di lana sulle gambe forti. Questo nonno, che in gioventù aveva combattuto per l'indipendenza d'Italia, fece ai cinque fratelli il saluto militare e parve poi passarli in rivista. E rimasero tutti scambievolmente contenti. Al vecchio fu assegnato il posto migliore, accanto al fuoco, e allora sul suo petto, fra i bottoni scintillanti del suo giubbone, si vide anche risplendere come un piccolo astro la sua antica medaglia al valore militare. La fidanzata gli versò da bere, poi versò da bere al fidanzato, e questi, nel prendere il bicchiere, le mise in mano di nascosto una moneta d'oro. Ella lo ringraziò con gli occhi, poi di nascosto pure lei andò a far vedere la moneta alla madre e a tutti i fratelli in ordine di età, mentre portava loro il bicchiere colmo. L'ultimo fu Felle, e Felle tentò di prendere la moneta, ma per scherzo e curiosità, si intende. Ma ella chiuse il pugno minacciosa. Avrebbe meglio ceduto un occhio. Il vecchio sollevò il bicchiere, augurando salute e gioia a tutti, e tutti risposero in coro. Poi si misero a discutere in un modo originale, voglia dire cantando. Il vecchio era un bravo poeta estemporaneo, improvvisava cioè canzoni, ed anche il fratello maggiore della fidanzata sapeva fare altrettanto. Fra loro due, quindi, intonarono una gara di ottave su allegri argomenti d'occasione, e gli altri ascoltavano, facevano colo e applaudivano. Fuori le campane suonarono, annunziando la messa. Era tempo di cominciare a preparare la cena. La madre, aiutata da Felle, staccò le cosce ai due porchetti e le infilò in tre lunghi spiedi, dei quali teneva il manico fermo a terra. La quarta la porterà in regalo ai nostri vicini, disse a Felle. Anch'essi hanno diritto di godersi la festa. Tutto contento, Felle prese per la zampa la coscia bella e grassa, e uscì nel cortile. La notte era gelida, ma calma, ed un tratto pareva che il paese tutto si fosse destato, in quel chiarore fantastico di neve, perché, oltre al suono delle campane, si sentivano canti e grida. Nella casetta del vicino, invece, adesso tutti tacevano. Anche le bambine, ancora accovacciate attorno al focolare, pareva si fossero addormentate, aspettando però ancora, in sogno, un dono meraviglioso. All'entrata di Felle si scossero, guardarono la coscia del porchetto che egli scuoteva di qua e di là, come un incensiere. Ma non parlarono. No, non era quello il regalo che aspettavano. Intanto Lia era scesa di corsa dalla cameretta di sopra, prese senza fare complimenti il dono, e alle domande di Felle rispose con impazienza. La mamma si sente male, e il babbo è andato a comprare una bella cosa. Vattene! Egli rientrò pensieroso a casa sua. Là non c'erano misteri, né dolori. Tutto era vita, movimento e gioia. Mai un Natale era stato così bello, neppure quando viveva ancora il padre. Felle però si sentiva in fondo un po' triste, pensando alla strana festa della casa dei vicini. Al terzo tocco della messa, il nonno del fidanzato batte il suo bastone sulla pietra del focolare. Oh ragazzi, su, infila! E tutti si alzarono per andare alla messa. In casa rimase solo la madre, per badare agli spiedi che girava lentamente accanto al fuoco per fare bene arrostire la carne del porchetto. I figli dunque, i fidanzati e il nonno, che pareva guidarsi la compagnia, andavano in chiesa. La neve attutiva i loro passi. Figure imbaccuccate sbucavano da tutte le parti, con lanterne in mano, gestando intorno ombre e chiaroli fantastici. Si scambiavano saluti, si batteva alle porte chiuse per chiamare tutti alla messa. Felle camminava come in sogno e non aveva freddo, anzi, gli alberi bianchi attorno alla chiesa gli sembravano mandorli fioriti. Si sentiva insomma, sotto le sue vesti lanose, caldo e felice come un agnellino al sole di maggio. I suoi capelli freschi di quell'aria di neve gli sembravano fatti di erba. Pensava alle cose buone che avrebbe mangiato al ritorno dalla messa nella sua casa riscaldata e ricordando che Gesù invece doveva nascere in una fredda stalla, nudo e digiuno, gli veniva voglia di piangere, di coprirlo con le sue vesti, di portarselo a casa sua. Dentro la chiesa continuava l'illusione della primavera. L'altare era tutto adorno di rami di corbezzolo, coi frutti rossi, di mirto e di alloro. I ceri brillavano tra le fronde e l'ombra di queste si disegnava sulle pareti come sui muri di un giardino. In una cappella sorgeva il presepio con una montagna fatta di sughero e rivestita di musco. I re magi scendevano cauti da un sentiero erto e una cometa d'oro illuminava loro la via. Tutto era bello, tutto era luce e gioia. I re potenti scendevano dai orotroni per portare in dono il loro amore e le loro ricchezze al figlio dei poveri, a Gesù nato in una stalla. Gli astri li guidavano. Il sangue di Cristo, morto poi per la felicità degli uomini, pioveva sui cespugli e faceva sbocciare le rose, pioveva sugli alberi per far maturare i frutti. Così la madre aveva insegnato a felle e così era. Gloria, gloria, cantavano i preti sull'altare e il popolo rispondeva gloria a Dio nel più alto dei cieli e pace in terra agli uomini di buona volontà. Felle cantava anche lui e sentiva che questa gioia che gli riempiva il cuore era il più bel dono che Gesù gli mandava. All'uscita di chiesa sentì un po' di freddo perché era stato sempre inginocchiato sul pavimento nudo, ma la sua gioia non diminuiva, anzi aumentava. Nel sentire l'odore d'arrosto che usciva dalle case, apriva le narici come un cagnolino affamato e si mise a correre per arrivare in tempo per aiutare la mamma ad apparecchiare per la cena. Ma già tutto era pronto. La madre aveva steso una tovaglia di lino per terra su una stoia di giunco e altre stoie attorno e, secondo l'uso antico, aveva messo fuori sotto la tettoia del cortile un piatto di carne e un vaso di vino cotto dove galleggiavano fette di buccia d'arancio perché l'anima del marito, se mai tornava in questo mondo, avesse da sfamarsi. Fell andò a vedere. Collocò il piatto e il vaso più in alto, sopra un asse della tettoia, perché i cani erandaci non li toccassero. Poi guardò ancora verso la casa dei vicini. Si vedeva sempre la luce alla finestra, ma tutto era silenzio. Il padre non doveva essere ancora tornato col suo regalo misterioso. Fell rientrò in casa e prese parte attiva alla cena. In mezzo alla mensa sorgeva una piccola torre di focacce, tonde e lucide che parevano d'avorio. Ciascuno dei commensali ogni tanto si sporgeva in avanti e ne tirava una a sé. Anche l'arrosto, tagliato a grosse fette, stava in certi larghi vassoi di legno e di creta, e ognuno si serviva da sé, a sua volontà. Fell, seduto accanto alla madre, aveva tirato davanti a sé tutto un vassoio per conto suo e mangiava senza badare più a nulla. Attraverso lo scricchiolio della cotenna brustolita del porchetto, i discorsi dei grandi gli parevano lontani e non lo interessavano più. Quando poi venne in tavola la torta gialla e calda come il sole, intorno apparvero i dolci in forma di cuori, di uccelli, di frutta e di fiori, egli si sentì svenire. Chiuse gli occhi e si piegò sulla spalla della madre. Ella, credete che gli piangesse, invece rideva per il piacere. Ma quando fu sazio e sentì bisogno di muoversi, ripensò ai suoi vicini di casa. Che mai accadeva da loro? E il padre era tornato col dono? Una curiosità invincibile lo spinse ad uscire ancora nel cortile, ad avvicinarsi e spiare. Nel resto la porticina era socchiusa. Dentro la cucina le bambine stavano ancora intorno al focolare e il padre, arrivato tardi ma sempre in tempo, arrostiva allo spiedo la coscia del porchetto donato dai vicini di casa. Ma il regalo comprato da lui, dal padre, dov'era? Vieni avanti e va a vedere, gli disse l'uomo, indovinando il pensiero di lui. Felle entrò, salì la scaletta di legno e nella cameretta su vide la madre di Lia assopita nel letto di legno e Lia inginocchiata davanti a un canestro. E dentro il canestro, fra pannolini caldi, stava un bambino appena nato. Un bel bambino rosso, con due riccioli sulle tempie e gli occhi già aperti. È il nostro primo fratellino, mormorò Lia. Mio padre l'ha comprato a mezzanotte precisa, mentre le campane suonavano in gloria. Le sue ossa, quindi, non si disgiungeranno mai ed egli le ritroverà intatte il giorno del giudizio universale. Ecco il dono che Gesù ci ha fatto questa notte. Grazie.